Ecco, com'è andato la prima fase della gara? Diciamo che il primo giro è stato quello di ricognizione che consente a tutti i piloti di conoscere meglio il percorso e di capire come interagisce la macchina sul percorso stesso durante i trazi di gara. E quindi questo è il primo giro di ricognizione. Adesso ufficialmente cominciano le tre manche, da qui a poco partirà la prima manche e speriamo che tutto vada bene nel migliore dei modi e che ci divertiamo perché oggi qua siamo noi più che altro per divertirci, non è che dobbiamo fare chissà cosa però ognuno di noi ci mette del suo per poter anche superare i propri limiti e vincere anche, diciamo, soprattutto quelle che sono le distanze rispetto anche agli anni precedenti, agli anni di gara precedenti. Lei corre per la scuderia? Piloti per passioni, unitariamente agli altri piloti della mia scuderia, siamo qua in massima rappresentanza e ringrazio di cuore veramente l'organizzazione perché l'organizzazione consiste, diciamo, in questo partenariato che vi è tra Oppidoma e Martina Racing, di cui io sono socio, e la nostra scuderia piloti per passioni, diretta egregiamente dalla dottoressa Elisa Denisi e dal dottor Pino Denisi.